Rodrigo Duterte, il castigatore, stravince le presidenziali nelle Filippine con la promessa non già di eradicare il crimine ma di sterminare i criminali. L'ex sindaco di Davao nel sud del paese, noto per le esecuzioni sommarie di malviventi e delinquenti locali, ha ottenuto oltre 13 milioni di preferenze, quasi il doppio rispetto alla sua diretta concorrente Grace Poe che ha ammesso la sconfitta. Lascio libero il campo a Rodrigo Duterte che è in testa nelle elezioni ed è stato votato da tanti nostri cittadini, ha detto. Duterte, 71 anni, ammette di non sapere nulla di economia e ha limitato le sue dichiarazioni di politica estera a qualche buttad. È noto tra l'altro per le uscite oltre il limite del macismo. Una serie di proteste si sono tenute a Manila. Duterte rischia di avere come vicepresidente Ferdinand Marcos Junior, ha detto Bong Bong, figlio dell'ex dittatore. Il netto vantaggio nel voto separato per l'elezione del braccio destro del capo dello Stato.